benvenuti in kiwi a bella tutti ragazzi sciocari benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti o ragazzi non so l'audio com'è sarà sicuramente una cagata perché ovviamente sto riprendendo qua c'è un po di eco in questa casa di lucca comics ragazzi si ragazzi lucca comics oggi ragazzi è venerdì quindi oggi è il primissimo giorno di lucca comics anche se io sto registrando questo video il giorno prima cioè ieri ho registrato il video che sarebbe oggi che amo capire insomma e quindi ragazzi oggi vi faccio vedere un po il pre lucca comics diciamo cosa com'è la situazione la situation il giorno prima capito che c'è un po vedere un po di cose in giro e quindi anche per dirvi che comunque in questi giorni di lucca comics andrò in giro per la fiera fare qualche intervista qualche cosa vi farò vedere anche qualche qualche stand qualche cosa un po più particolare ma principalmente per rompere le palle ai cosplayer come faccio sempre in queste viere diciamo quindi se sei un cosplayer e stai a lucca comics e stai guardando questo video oggi che è venerdì probabilmente odio intervistato o non ti ho intervistato oppure sto lì magari che te sto pepia insomma e quindi ragazzi se state vedendo questo video a lucca comics scrivetelo qua sotto nei commenti e io vi verrò a intervistare se vi becco un po in giro diciamo ovviamente anche io sarò in cosplay vestito in cosplay da naruto quindi ragazzi quando vedete un naruto col microfono sono io che vi sto andando a rompere le palle quindi oltre a questo vi farò vedere anche non voglio spoilerare molto sinceramente perché non so se ce la faccio ma ci sarà un evento esclusivissimo che non so se riesco a farlo io ce la farò ce la devo fare ad andare all'evento di team barton ragazzi quello sto dicendo ma non so sicuro di farcela già metto le mani avanti quindi non so sicuro di farcela vi farò sapere nelle storie di instagram se gliela farò però sarò presente all'evento di team barton sempre sia faccio a entrare nel teatro perché sono posti limitatissimi la gente mille mila la gente e poi oltre al fatto che domenica ci sarà il raduno cosplay di dragon ball fatto da me e dallo street and fun di lucca comics quindi ragazzi se sei un cosplayer di dragon ball lo porti domenica vieni al raduno se il cosplay di dragon ball lo porti un altro giorno cambia piani e viene al raduno che fame cose in grande i botti interviste tutta cosa il casino famo quindi ragazzi mo vi faccio vedere un po com'è la situazione qui al lucca comics il giorno prima cioè cioè ieri che lo stai guardando però la situazione ancora un po' è ancora calma quindi vi farò vedere un po' di cosette diciamo quindi ricapitolandolo programma di questo di questo weekend di lucca comics venerdì sabato è lunedì è martedì interviste ragazzi famo il delirio famo famo il delirio ma ora ragazzi vi faccio vedere com'è la situazione e qui a lucca comics il giorno prima allora ragazzi qua siamo siamo entrati su via via più lungo siamo e sinceramente la temperatura già fa caldo sinceramente oddio fa molto più caldo rispetto alle altre volte sto sto inquinamento atmosferico non è poi tanto male perché effettivamente oggi a lucca siamo così a mezze maniche camaglietta alle ore alle ore alle ore sette e mezza più o meno quindi se sta bene se sta bene promette un lucca caldo sinceramente come temperature pare tipo metà settembre più o meno inizio metà settembre ottimo ci sta ci sta sto lucca caldo ci piace dato che di solito piove sempre però ragazzi vi faccio vedere un po come la situazione qua vedete è abbastanza molto sta al cambio della monnezza esattamente però è anche molto tranquillo e infatti ragazzi come vi ho detto stanno preparando lo il padiglione di wakanda forever con tutte le maschere di black panther però qua i lavoratori stanno qui a famo domani che c'è domani oggi che però vedete nel prossimo video lo stand di wakanda forever se riesco a intrarci perché già immagino che ci sarà una fila esagerata e questo ragazzi invece stiamo a piazza anfiteatro che quest'anno a piazza anfiteatro hanno messo il padiglione lo stand così della playstation infatti ma fighissima sta cosa raga con questa cupola trasparente che a croce da playstation e a cupola trasparente raga non so che cazzo stanno a fa dentro fammi andare a vedere andiamo a vedere che c'è che c'è sta a fare ah ma c'è c'è sta a andare chi è raga? o riconoscete chi è? ah non vedi avete visto raga? quindi sta a fare la live stanno a fare raga e niente vabbè quindi raga poi domani vi faccio vedere la fila immensa che ci sta qui allo stand della playstation quindi ragazzi qua stiamo sempre in piazza san michele che a quello stand dove ho fatto vedere stavano a fare il coso di di wakanda forever ci sta dall'altra parte ci sta e quello sarebbe lo stand della disney vedete quello stand della disney dove faranno anche alcune cose su avatar credo che vendano cose anche relativamente ad avatar e questa è tutta la fila che ci sarà domani per entrarci io ragazzi non lo so se riuscirò ad entrarci raga non lo so questo serpentone qua me fa paura ragazzi me fa paura vabbè ragazzi quindi banda e chance il programma ve l'ho detto voi ragazzi mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale noi invece ci vediamo al prossimo video dove vi farò vedere tutto quanto in Luca Comics ciao ragazzi da piazza san michele ciao ragazzi ciao 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 ciao